Jingle bells Quando si svegliò l'indomani mattina, a Laura parve una giornata più lieta di Natale. Oh, sono a casa, pensò. Poi disse, Carrie, buongiorno, sveglia, dormigliona. Aveva voglia di ridere dalla gioia, mentre si vestiva tremando di freddo e scendeva di corsa di sotto per allacciarsi le scarpe e pettinarsi in cucina, dove la stufa era già accesa e mamma stava preparando la colazione. Buongiorno, ma, visse allegramente. Buongiorno, sorrise mamma, hai tutto un altro aspetto stamani. Oh, è bello essere a casa, disse Laura. Che cosa faccio come prima cosa? Per tutta la mattina aiutò nelle faccende domestiche del sabato e benché di solito la infastidisse la sensazione di secchezza che la farina lasciava sulle dita, quel giorno le fece piacere perfino impastare i pane, perché pensava che sarebbe stata a casa quando avrebbero messo in tavola le pagnotte appena sfornate. Con la loro fragrante crosta marrone. Il cuore cantava insieme alle labbra. Non sarebbe mai più tornata dai Brewster. Era una bella giornata di sole e quel pomeriggio, quando ebbero finito tutte le faccende di casa, Laura sperò che Mary Power venisse a trovarla col suo lavoro di uncinetto. Mamma lavorava a maglia, dondolando piano sulla sua sedia accanto alla finestra. Carrie stava facendo un quadrato per una trapunta patchwork, ma Laura non riusciva a star ferma. Siccome Mary non compariva, aveva giusto deciso di andare lei a trovarla e si stava vestendo quando sentì un lontano tintinio di campanelli. Per qualche motivo il cuore le dette un balzo, ma il suono si affievolì rapidamente ed erano solo tre o quattro campanelli in tutto, non la bella sonagliera di Prince e Lady. Il tintinio non era ancora svanito del tutto. che se ne sentirono altri passare davanti alla finestra. Poi, su e giù per Main Street, fu tutto un risuonare di campanelli, ora qui, ora là. Laura andò alla finestra, vide Minnie Johnson e Fred Gilbert passare di volata, poi Arthur Johnson con una ragazza che non conosceva. Poco dopo, giunse il tintinio pieno di una doppia sonagliera e Mary Power e Cap Garland passarono lì davanti in una piccola slitta a due posti. Ecco perché Mary non si era fatta viva. Cap Garland aveva anche lui una slitta leggera da passeggio e due file intere di campanelli. Slitte piccole e grandi, da passeggio e da carico, ognuna con una coppia allegra e spensierata, continuarono a passare e ripassare sotto la finestra. Alla fine Laura tornò al suo lavoro di uncinetto. La stanza era quieta e serena. Nessuno venne a cercarla, era stata via così a lungo che probabilmente nessuno pensava più a lei. Per tutto il pomeriggio le slitte continuarono a passare e sulle slitte c'erano i suoi compagni di scuola che si divertivano in compagnia, là fuori, nel sole di quella bella giornata di fine inverno. Più e più volte passarono Mary Power e Cap Garland in quella piccola slitta da passeggio fatta apposta per due persone. Beh, pensava Laura, l'indomani se non altro avrebbe visto Aida. Ma Aida quella domenica non venne in chiesa. La signora Brown disse che era rimasta a casa con un brutto raffreddore. Quella domenica pomeriggio il tempo fu ancora bello, faceva meno freddo e l'aria scintillava di sole. Le slitte tornarono tra un tintinar di campanelli e tante risate, slitte che volavano veloci nel vento. Dalla finestra Laura vide Mary Power e Cap Garland, Minnie e Fred, Frank Hawthorne e May Bird e tanti nuovi venuti che conosceva appena di vista. Passavano a due a due in allegria, ridendo e scherzando. Qualcuno cantava. Nessuno pensava a lei. Era stata via così a lungo che l'avevano dimenticata. Cercò di concentrarsi sulle poesie di Tennyson, di non pensare che l'avevano dimenticata ed esclusa, di non sentire i campanelli e le risate, ma le sembrava di non reggere. A un tratto sentì un tintinio proprio davanti alla porta. Papà non fece in tempo ad alzare gli occhi dal giornale che lei era già corsa ad aprire. «C'erano Prince e Lady, fermi lì sulla strada!» Almanzo le sorrise. «Vieni a fare un giro in slitta?» «Sì!» esclamò Laura. «Un attimo, mi vesto!» Si infilò il cappotto, mise il cappuccio bianco e i guanti. Almanzo le rimboccò le coperte, tutt'attorno, e partirono di volata. «Non avevo mai notato che hai gli occhi così azzurri!» disse. «Oh, è il cappuccio bianco!» rispose Laura. «Per andare dai Brewster mettevo sempre quello marrone!» Poi scrollò la testa e scoppiò a ridere. «Che c'è di tanto buffo?» chiese lui con un sorriso. «Oh, mi faccio ridere da sola!» disse Laura. «Avevo deciso di non venire più con te, ma me ne sono dimenticata! E tu perché sei venuto?» «Beh, ho pensato che magari avevi cambiato idea dopo aver guardato passare tutti gli altri!» disse Almanzo. Allora scoppiarono a ridere tutti e due. La loro era una delle tante, slitte, grandi e piccole, da passeggio e da carico che correvano lungo Main Street. Quando arrivavano in fondo alla strada, uscivano nella prateria aperta e con un grande giro in tondo tornavano indietro. Imboccavano di nuovo Main Street, la percorrevano tutta e uscivano nella prateria dall'altra parte. E via così, avanti e indietro, da nord a sud e poi da sud a nord, il sole brillava fino all'orizzonte sulla vasta prateria innevata. Il vento pizzicava la faccia. I campanelli tintinnavano, i pattini della slitta scricchiolavano sulla neve ghiacciata e Laura era così felice che si mise a cantare Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is it to ride in a one-horse open sleigh. Dalla fila di slitte, altre voci si unirono alla sua. Su e giù per Main Street e fin laggiù nella prateria sterminata, da nord a sud e da sud a nord, risuonavano campanelli e voci in canto, nell'aria limpida e frizzante. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Non c'era nulla da temere, perché non si allontanavano mai tanto dal paese. Soffiava un vento teso, ma non troppo forte, ed era grande l'allegria, perché erano giovani e non faceva troppo freddo e splendeva il sole. Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia! Lunedì mattina Laura uscì tutta allegra per andare a scuola con Carrie. Mentre percorrevano la carrareccia facendo attenzione a non scivolare, perché il vento aveva ghiacciato i solchi lasciati dai carri, Carrie osservò com'è bello fare di nuovo questa strada con te. Quando non c'eri mi sembrava che mancasse qualcosa. Anche per me è così, rispose Laura. Come entrarono nell'aula, Aida le gridò allegramente «Bentornata, maestra!» E tutti le si fecero intorno. «Che effetto fa a tornare a scuola?» chiese Aida. Aveva il naso rosso e gonfio per il raffreddore, ma gli occhi ridenti di sempre. «Un effetto bellissimo!» rispose Laura stringendole la mano. Erano tutte contente che fosse di nuovo con loro. Perfino Nell'Ioleson sembrava più gentile. «Ne hai fatti di viaggi in slitta?» le disse. «Ora che sei tornata inviterai anche qualcuna di noi?» «Può darsi!» si limitò a rispondere Laura, che non capiva che cosa avesse in mente Nelli. Poi il signor Owen scese dalla cattedra e venne anche lui a salutarla. «Siamo contenti di averti di nuovo con noi!» disse. «Ho sentito che hai fatto un ottimo lavoro!» «Grazie!» rispose Laura. «Anch'io sono contenta di essere tornata!» Le sarebbe piaciuto sapere chi lo aveva informato, ma non era cosa che potesse chiedere. Era un po' in ansia perché temeva di essere rimasta indietro, ma si accorse presto che era più che in pari con gli altri. Tutte le interrogazioni per lei non furono altro che un ripasso di ciò che aveva studiato la sera dai Brewster. Se per rispondere a tutte le domande era ancora la prima della classe e per buona parte della mattinata si sentì perfettamente tranquilla e sicura di sé. Ma durante l'intervallo scoprì dalle amiche che per quel giorno era stato assegnato un componimento dal titolo L'Ambizione. Nell'ora successiva ognuno avrebbe dovuto leggere il suo lavoro ad alta voce. Laura si sgomentò, non aveva mai fatto un componimento e ora doveva scrivere in pochi minuti quello che i compagni avevano fatto a casa in due giorni. Aida era stata aiutata dalla signora Brown che scriveva sempre sul bollettino della chiesa chissà come era venuto bene il suo lavoro. Non aveva idea di come cominciare, che sapeva lei dell'ambizione. L'unica cosa che riusciva a pensare era che avrebbe avuto un votaccio in una materia dove era sempre stata la prima. No, 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 doveva riuscire a scrivere qualcosa. Ma come si scrive un componimento? E le restavano solo cinque minuti. Si scoprì a fissare disperata il dizionario rilegato in pelle gialla che troneggiava sul leggio apposito accanto alla cattedra. Ecco, magari poteva trarre qualche idea dalla definizione di quella parola. Si precipitò a sfogliare ansiosamente le pagine della A. Trovò una definizione interessante. Tornò al suo posto e si mise a scrivere furiosamente e continuò anche mentre i compagni rientravano dall'intervallo. Le parve di aver fatto un ben misero lavoro ma non ebbe tempo di ricopiarlo in bella né di aggiungere altro perché il signor Owen aveva già cominciato la lezione. A turno, ognuno dei suoi compagni e compagne andò alla cattedra a leggere quello che aveva scritto. A ogni lettura Laura si demoralizzava sempre di più. Le sembrava che avessero fatto tutto e tanto meglio di lei. Alla fine il signor Owen chiamò Laura Ingalls. Con un mormorio la classe si dispose a sentire che cosa aveva scritto. Laura si alzò e si costrinse a leggere con voce forte e chiara. Era il meglio che aveva saputo fare. L'ambizione. L'ambizione è necessaria alla riuscita. Senza l'ambizione di conseguire una meta nulla verrebbe fatto mai. Senza l'ambizione di fare meglio degli altri e di superare se stessi non ci sarebbe eccellenza. Per ottenere qualsiasi cosa dobbiamo avere in noi l'ambizione di riuscire. L'ambizione è una buona ancella ma una cattiva maestra. Se sappiamo tenerla a freno è buona cosa. Ma se rischiamo di esserne dominati sarà meglio pensare a ciò che dice Shakespeare. Cromwell questo è il mio monito. Allontano da te l'ambizione. È il peccato per cui cadero gli angeli. Tutto lì. Mortificata Laura tese il giudizio. Il signor Owen la scrutò per un istante e poi disse Avevi già scritto componimenti? No, disse Laura. È la prima volta. Bene. Ne scriverai altri. Non immaginavo che si potesse fare così bene alla prima prova. Laura lo guardò stupefatta. Ma è così corto e l'ho preso quasi tutto dal dizionario. Non ha molto del dizionario, disse il signor Owen. E non c'è da correggere nulla. Ti do cento. Per oggi abbiamo terminato. Potete andare. Era il voto massimo. Laura era ancora la prima della classe. Era certa ormai che impegnandosi sarebbe rimasta la prima. E la rallegrò il pensiero di dover scrivere altri componimenti in futuro. Il tempo volava. La settimana passò in un lampo. E il venerdì, quando Laura e Carrie tornarono a casa per pranzo, papà disse Ho una cosa per te, Laura. Tirò fuori di tasca il portafogli e con gli occhi che sorridevano le mise in mano. Una dopo l'altra, quattro banconote da dieci dollari l'una. Ho visto Brewster stamani. Me li ha dati per te. Dice che hai fatto un buon lavoro. Vorrebbero che tornassi l'inverno prossimo. Non ti sei mai lamentata, ma io so che stare dai Brewster non è stato affatto piacevole e apprezzo il fatto che tu ci sia rimasta fino alla fine. Opa, ne valeva davvero la pena, esclamò Laura tutta emozionata. Quaranta dollari! Chi avrebbe guadagnato quaranta dollari lo sapeva già, ma averli in mano era tutt'altra cosa. All'improvviso diventava tutto vero. Guardava le banconote come se ancora non ci credesse. Quattro banconote da dieci dollari. Quaranta dollari! Li porse a papà. Tieni pa, serviranno per Mary. Bastano, vero, per farla tornare a casa durante le vacanze quest'estate? Oh, bastano e avanzano, disse papà rimettendo le banconote nel portafogli. Laura, ma non tieni niente per te, con tutto il lavoro che hai fatto, esclamò Carrie. Avremo Mary qui con noi quest'estate, rispose Laura allegramente. L'ho fatto solo per Mary. Era una sensazione meravigliosa sapere che il suo lavoro era servito a tanto. Quaranta dollari. Sedendo a tavola con il resto della famiglia, felice di essere con loro, Laura disse mi piacerebbe poter guadagnare altri soldi. Eh, una possibilità ci sarebbe se vuoi, disse mamma inaspettatamente. La signora Mecchi mi ha detto stamani che le farebbe piacere se tu andassi ad aiutarla il sabato. Da sola non ce la fa. Ti darebbe cinquanta centesimi più il pranzo. Oh, esclamò Laura, l'hai detto di sì, vero? Ho detto che non ho nulla in contrario se tu sei d'accordo, disse mamma con un sorriso. Quando? Già domani? Sì, domani mattina, alle otto. Dice che prima di quell'ora non avrebbe niente da farti fare. L'orario sarebbe solo dalle otto o alle sei, a meno che non ci sia un'urgenza. In quel caso, se dovessi fermarti fino a tardi, ti darebbe anche la cena. La signora Mecchi era la sarta del paese, i Mecchi erano arrivati da poco, abitavano in una casa nuova tra la bottega di Clancy e i nuovi uffici all'angolo tra Main Street e Second Street. Laura l'aveva conosciuta in chiesa e l'aveva trovata simpatica. Era una donna alta e slanciata, con miti occhi azzuri e un bel sorriso cordiale. Portava i capelli castani raccolti a crocchia sulla nuca. Così Laura ebbe l'intera settimana impegnata. Erano tutti impegni piacevoli. A scuola le giornate passavano in un baleno e il sabato andava a cucire dalla signora Mecchi. La sua casa era piccola, ma così linda e ordinata che non ti accorgevi neppure che salotto e cucina fossero tutt'uno. La domenica mattina c'erano la lezione di catechismo e il culto in chiesa e la domenica pomeriggio, se il tempo era bello, le corse in slitta. Prince e Lady arrivavano con le loro allegre sonagliere tintinnanti e si fermavano davanti alla porta, e lei saliva sulla slitta di Almanzo, tirata dai cavalli più belli e più veloci di tutto il corteo. Ma i momenti più belli erano la mattina e la sera in famiglia. Si rendeva conto ora di non avere mai apprezzato quanto meritava l'atmosfera serena della loro casa. Non c'erano silenzi rancorosi, né litigi pieni di malanimo, né brutti sfoghi di collera. C'erano invece le ore di lavoro condiviso, le chiacchiere, le battute allegre, le tranquille serate di studio e di lettura, il violino di papà. Com'era bello ascoltare quelle canzoni familiari nella stanza quieta e raccolta sotto la luce calda della lampada. Pensava spesso a quanto era felice e fortunata. Non ci poteva essere nulla al mondo di più bello che stare a casa propria, con la propria famiglia. Primavera Un venerdì pomeriggio d'aprile Laura, Aida e Mary Power tornavano a casa da scuola. Camminavano lentamente, senza fretta. L'aria era umida e mite, i tetti gocciolavano, la neve sulla strada si stava sciogliendo. È quasi primavera, disse Aida, tre settimane e finirà anche la scuola. Sì, disse Mary, noi torniamo in campagna, anche voi Laura, vero? Eh, penso di sì, rispose Laura. Strano, l'inverno sembrava appena cominciato ed è già finito. Beh, se tiene questo tempo, entro domani la neve sarà sparita del tutto, disse Mary, il che significava che non ci sarebbero più state corse in slitta. È bello in campagna, disse Laura. Era l'epoca dei vitelli e dei pulcini, del lavoro nell'orto e delle prime verdure fresche, insalata, ravanelli, cipollotti, poi le rose e le viole di giugno, e allora Mary sarebbe venuta a casa. Attraversò con Carrie la strada ridotta a fanghiglia e aprì la porta. Papà e mamma erano in soggiorno e sulla sedia di Mary era seduto uno sconosciuto che, vedendola esitare sulla soglia, si alzò sorridendo. Non mi riconosci, Laura? Laura capì dal sorriso, così simile a quello di mamma. Zio Tom! C'è zio Tom! Papà rise, te l'ho detto che ti riconosceva Tom! Mamma sorrise, era lo stesso sorriso dello zio, che ora stringeva la mano a lei e a Carrie. Carrie invece non se lo ricordava, era ancora troppo piccola quando stavano nei grandi boschi del Wisconsin. Ma Laura aveva cinque anni ed era andata anche lei al ballo di fine inverno a casa della nonna, e là c'era anche zio Tom. Era stato quasi sempre zitto e lei se lo era quasi dimenticato, ma ora le venne in mente che zia Doccia aveva portato sue notizie la volta che si era fermata da loro al Plum Creek in Minnesota. Zio Tom era un uomo piccolino, dai modi tranquilli e il sorriso mite. Guardandolo a tavola, Laura stentava a credere che avesse lavorato per anni come caposquadra coi tagli a legna che trasportavano il legname dei grandi boschi giù per i fiumi. Minuto e gentile com'era, sembrava strano che avesse potuto farsi rispettare da quegli omoni rudi e fare quei lunghi viaggi pericolosi sulle zattere di tronchi. Zia Doccia aveva raccontato che una volta si era buttato nel fiume in mezzo a quegli enormi tronchi galleggianti e tenendosi aggrappato a uno di essi era riuscito a trarre in salvo un uomo ferito che rischiava di annegare, con tutto che non sapeva nuotare. Ora aveva tante cose da raccontare. Parlò della moglie, zia Lily, e della piccola Ellen, la loro bambina, e dette notizie anche della famiglia di zio Harry e zia Polly e dei cugini Charlie e Albert. Dopo aver lasciato il Silver Lake, non erano andati in Montana alla fin fine, si erano fermati nelle Black Hills. Erano ancora tutti là, tranne la cugina Luisa che si era sposata e aveva proseguito per il Montana. Zia Eliza e zio Peter, invece, erano ancora in Minnesota, ma Alice, Ella e il cugino Peter si erano trasferiti da qualche parte nel territorio Dakota. Carrie e Grace stavano a sentire con gli occhi spalancati. Carrie non ricordava nessuna di quelle persone e Grace non aveva mai visto i grandi boschi. Non sapeva cos'era un ballo di fine inverno, né come erano allegri i Natali quando zio Peter e zia Eliza venivano a trovarli con Alice, Ella e Peter. Laura si ramaricava che non avesse vissuto anche lei quelle giornate gioiose. Quando ebbero finito di cenare e acceso la lampada, si raccolsero tutti attorno allo zio che, sollecitato dalle domande di papà, aveva preso a raccontare storie di taglialegne, di lunghi viaggi, con le zatre di tronchi, di fiumi impetuosi e segherie. Raccontava con calma, con la stessa voce dolce e lo stesso sorriso mite di mamma. «Dunque questo è il tuo primo viaggio all'Ovest?» disse papà. «No», rispose zio Tom, «sono stato tra i primi bianchi a vedere le Black Hills». Mamma e papà lo guardarono esterrefatti. Poi mamma disse «E che ci sei andato a fare, Tom?» «A cercare l'oro?» disse zio Tom. «Beh, peccato che non hai trovato qualche bel filone», disse papà scherzando. «L'abbiamo trovato, sì», disse zio Tom, «ma ci ha portato solo disgrazie». «Oh, signore!» esclamò mamma, «racconta». «Mmm, vediamo un po'. «Sì, siamo partiti da Siu City otto anni fa», cominciò zio Tom, nell'ottobre del settantaquattro. Eravamo in ventisei e uno si era portato dietro anche la moglie e il figlioletto di nove anni. Viaggiavano con i carri coperti, tirati dai buoi e avevano anche qualche cavallo da sella, avevano un Winchester ciascuno e altre armi e munizioni, a sufficienza per otto mesi. Avevano caricato sui carri provviste di farina, pancetta, fagioli e caffè. La carne fresca se la procuravano cacciando. Selvagina ce n'era in abbondanza, alci, antilopi, cervi. Il problema principale in quelle pianure sterminate era la scarsità d'acqua, ma per fortuna era l'inizio dell'inverno e c'era molta neve. La sera la facevano sciogliere per avere acqua da bere l'indomani. Il viaggio era stato rallentato dalle bufere. Col maltempo dovevano fermarsi, ma tra una bufere e l'altra proseguivano, anche se la neve alta rendeva difficoltoso il cammino. Per risparmiare le bestie andavano a piedi. Anche la donna andava quasi sempre a piedi. Nelle giornate buone riuscivano a fare 15 miglia al giorno. Erano posti che nessuno aveva mai visto, ma da vedere non c'era altro che la prateria ghiacciata, le bufere di neve e di tanto in tanto in lontananza qualche indiano. Finché, a un certo punto, si erano trovati la strada sbarrata da uno strano avvallamento che si stendeva a perdita d'occhio in tutte le direzioni. Sembrava impossibile far scendere i carri laggiù, ma siccome non potevano fare altro che attraversarlo, con immensa fatica ce l'avevano fatta. Il fondo della depressione era pianeggiante, ma tutti intorno si levavano curiose formazioni di terra nuda, alte anche centinaia di piedi, con le pareti scoscese, a volte addirittura strapiombanti, tutte smangiate ed erose dal vento che soffiava incessante. Non ci cresceva sopra nulla, né alberi, né cespugli di sorta, neppure uno stelo d'erba. Sembravano fatte di fango rappreso e cotto dal sole, a parte dove erano striate e macchiate di altri colori più vividi. Sul fondo della depressione avevano trovato dappertutto conchiglie pietrificate, crani, ossa sbiancate dal sole, era un posto infernale, disse zio Tom. Le ossa scricchiolavano sotto le ruote dei carri e sembrava quasi che quei torrioni di terra si girassero a guardarli mentre passavano. sembrava davvero che alcuni avessero un volto, altri parevano idoli spaventosi, i carri dovevano zigzagarci in mezzo per seguire le forre o gli avvallamenti tra l'uno e l'altro e a furia di girare di qua e di là alla fine si erano persi. C'erano voluti tre giorni per trovare come uscirne e un giorno intero per far risalire i carri dall'altra parte. Quando erano usciti fuori, un vecchio cercatore che era con loro gli aveva detto che quelle dovevano essere le Badlands di cui aveva sentito parlare dagli indiani e aveva aggiunto quando Dio ha creato il mondo tutto quello che gli avanzava e di cui non sapeva che fare deve averlo buttato in quel buco. Poi avevano attraversato altre praterie finché erano arrivati in vista delle Black Hills. Là avevano trovato riparo dai venti che li avevano tormentati per tutto il viaggio ma il cammino si era fatto molto più disagevole perché il terreno era ripido e c'era molta neve. Erano in viaggio da 76 giorni quando avevano trovato dove fermarsi sul French Creek. Là, con i pini delle montagne, avevano costruito una palizzata quadrata con i lati lunghi 40 piedi. Era tutta fatta di tronchi posti l'uno accanto all'altro, alti 13 piedi e piantati nel terreno per una profondità di 3. Era stata una fatica improba perché il suolo era gelato. All'interno l'avevano rinforzata con tronchi più piccoli piantati con robusti chiodi di legno in corrispondenza delle fessure tra i tronchi esterni più grossi. A ogni angolo del quadrato avevano costruito un bastione di tronchi che sporgeva quel tanto da consentire di tenere sotto fuoco l'esterno del muro. Bastione e palizzata erano muniti di feritoie. L'unico ingresso del forte era una doppia porta larga 12 piedi fatta di grossi tronchi fissati l'uno all'altro con cavicchi di legno. Un gran bel lavoro una volta che l'ebbero finito. All'interno della palizzata avevano costruito sette piccole baracche di tronchi e là avevano passato l'inverno andando a caccia per procurarsi carne fresca e mettendo trappole per gli animali da pelliccia. Erano stati mesi molto freddi ma bene o male ce l'avevano fatta e all'inizio della primavera avevano trovato l'oro in pepite e in polvere nel pietrisco ghiacciato e nel letto dei torrenti e dei dintorni. Più o meno in quel periodo li avevano attaccati gli indiani. Tenerli a bada dall'interno del forte non era difficile. Il problema era che se non potevano uscire a caccia sarebbero morti di fame. Gli indiani stavano nei paraggi non combattevano molto ma ricacciavano indietro tutti quelli che cercavano di uscire. Aspettavano che morissero di fame. Loro avevano ridotto le razioni e tirato la cinghia per rimandare il più possibile il momento in cui avrebbero dovuto uccidere i buoi. Poi, un giorno, avevano sentito uno squillo di tromba in lontananza. Laura pensò al suono che aveva sentito e cheggiare una volta tanto tempo prima nei grandi boschi quando zio Harry aveva suonato la sua tromba di ordinanza. Erano i soldati? Sì, disse zio Tom. Era stato così che si erano salvati perché erano arrivati i soldati. Le sentinelle avevano dato l'avviso e loro erano corsi tutti a guardare. Si era sentita di nuovo la tromba poi pifferi e tamburi poi avevano visto sventolare la bandiera e dietro alla bandiera c'erano i soldati. Avevano aperto la porta e si erano precipitati tutti fuori dal primo all'ultimo per andare incontro ai loro salvatori e quelli li avevano presi prigionieri. Li avevano tenuti là fuori mentre alcuni di loro entravano ad appiccare il fuoco al forte e a tutto quello che c'era dentro. Avevano distrutto tutto baracche carri pelli e uccisi i buoi. Oh Tom mormorò mamma come se non potesse sopportare l'idea. Eh era terra degli indiani disse zio Tom dal punto di vista della legge non avevamo il diritto di essere lì. E non ti è rimasto nulla dopo tanta fatica e tanti pericoli mormorò mamma costernata. Ho perso tutto quello con cui ero partito tranne il fucile disse zio Tom i fucili ce li hanno lasciati e ci hanno portati via a piedi prigionieri. Papà si era messo ad andare su e giù per la stanza io non l'avrei ingoiata non senza combattere quanto meno. Non potevamo mica far guerra a tutto l'esercito degli Stati Uniti disse zio Tom ma è stata dura vedere andare in fumo quel forte. Eh ti capisco disse mamma penso ancora oggi alla casa che abbiamo dovuto abbandonare nel territorio indiano e proprio quando Charles aveva appena messo i vetri alle finestre. Laura aveva calcolato che i fatti raccontati da zio Tom dovevano essere accaduti quando loro vivevano al Plum Creek per un po' tutti tacquero poi il vecchio orologio cominciò a ronzare e lentamente solennemente batte un colpo. Santo cielo guardate che ore sono esclamò mamma dico Tom ci hai incantati col tuo racconto lo credo che Grace sia addormentata filate a letto ragazze e portatela su con voi Laura butta giù il materasso di piuma del mio letto e un paio di trapunte che preparo qui sotto per Tom non spogliare il tuo letto Caroline protestò zio Tom posso benissimo dormire per terra con una coperta quante volte l'ho fatto durante quel viaggio oh non ci succede niente se per una volta Charles e io dormiamo sul pagliericcio disse mamma quando penso quante volte avrei dormito al freddo e in quali condizioni di disagio poi non ci succede niente non ci succede niente